Benvenuti alla prima conferenza stampa di questa mattina, una conferenza stampa non di un film ma di un concorso, un contest che si chiama Torino Factory, che è un concorso riservato ai giovani film maker, giovani aspiranti cineasta e under 30 che coinvolge tutta la città di Torino. Do subito il benvenuto a Francesca Leon, l'assessore alla cultura del comune di Torino, la ringrazio di essere qui, ad Alessandro Gaido che è il direttore di Torino Factory e a Paolo Manera, direttore della Film Commission Torino Piemonte che ci raggiunge in corso d'opera. Oggi pomeriggio, oggi alle due e mezza, ci sarà Reposi 1, la prima proiezione degli otto finalisti del concorso di quest'anno, quindi vi invito tutti a partecipare e do subito la parola all'assessore Leon per introdurci. Sì, è la seconda edizione di un progetto a cui la città crede molto perché è un progetto rivolto ai giovani film maker studiato da Piemonte Movie che ha messo a disposizione un progetto che ritengo importante perché è riuscito a coagulare all'interno di un progetto alcuni obiettivi importanti per il cinema nella nostra città. Da un lato dare occasione ai giovani film maker attraverso un percorso di selezione che arriva alla selezione di otto progetti, otto progetti che trovano casa in otto quartieri diversi diversi della città e sono progetti seguiti da tutor che portano alla realizzazione di un cortometraggio che poi partecipa effettivamente al contest finale. Già dal primo anno è emersa la qualità di questi lavori tant'è che il vincitore del cortometraggio è riuscito anche ad arrivare, sta arrivando alla produzione di un documentario più strutturato che parte dall'idea iniziale del cortometraggio quindi ha suscitato un grande interesse e quindi vuol dire che questa modalità riesce anche a individuare la qualità di giovani film maker che in Torino Factory trovano l'occasione non solo per essere conosciuti e per fare esperienza ma anche per trovare fondi per riuscire a promuovere il proprio progetto. Nel primo anno abbiamo costruito una rete di relazioni insieme a Piemonte Movie e Alessandro Gaido in tutti i quartieri della città in modo da coinvolgere le persone, le attività commerciali e i luoghi che fanno parte di un quartiere per costruire insieme il progetto che viene proposto dai giovani film maker. Quest'anno ne sono stati selezionati 8 su 18, a quanto mi dice Alessandro già i 18 erano idee e progetti di grande qualità e spero adesso che tutti potrete vedere la proiezione con gli 8 corti per capire anche dei progetti e delle riflessioni di questi giovani film maker che guardano la nostra città sicuramente con occhi diversi dai nostri. Questo lavoro ci permette anche di collezionare corti che raccontano la nostra città, quindi portare il Torino Film Festival su tutta la città però dove la città diventa protagonista. Quindi facciamo il percorso inverso, portiamo la città all'interno del Torino Film Festival ed è il motivo per cui Torino Factory è parte anche strutturale del Torino Film Festival e con Film Commission c'è la volontà poi di collegare Torino Factory anche con Torino Film Industry. Grazie mille, passerei ad Alessandro che ci racconta come è andata allora bene questa seconda edizione di Torino Factory di cui oggi vedrete i film, i risultati. Sì grazie, intanto porto i saluti anche di Daniele Gaglianone che è il direttore artistico che questa mattina è impegnato a Chambery dovrebbe arrivare in tempo invece per la proiezione delle 14.30 al Reposi 1. Ma insomma è un progetto in crescita dal punto di vista del coinvolgimento della città, è un progetto che chiaramente è un progetto a lungo termine e quindi si valuta il percorso di crescita annuale, non tanto i grandi numeri subito, questa era una delle prerogative che avevamo detto fin dall'inizio con l'assessore e l'assessorato quando abbiamo presentato la proposta. Crediamo che ci sia una grande opportunità per i ragazzi che partecipano, soprattutto nel confronto con i tutor. Questo come diceva l'altro giorno Gaglianone a un incontro che abbiamo avuto appunto a Film Industry è un esperimento ma nella sua accezione più qualificativa, nel senso che si sta creando un laboratorio che in qualche modo ha sostituito la vecchia Spazio Torino che era soltanto, insomma è stata molto importante, soltanto nei nostri confronti perché in realtà da lì sono partiti grandissimi registi, però diciamo era un concorso dove ognuno portava le sue opere e poi dopo c'era una giuria che giudicava. Qua abbiamo cercato appunto di trasformarlo anche in un momento laboratoriale e di confronto. I registi non sempre qualcuno, ma ci sta appunto nell'ambito dell'esperimento, non sempre hanno magari ascoltato i consigli dei tutor, questo un po' ci spiace ma un po' fa parte del gioco. È anche una sorta di selezione e scelta personale che poi fanno... E poi non volevano fare i registi. Esatto, esatto. E poi anche una scelta personale che viene fatta, può essere premiante o meno, quello lo deciderà la giuria, peraltro la giuria è composta da professionisti come Rossella Schillaci e Francesco Ghiaccio, da uno scrittore che tutti conosciamo in città quantomeno, ma anche a livello nazionale, che è Fabio Geda. E credo che invece la parte del confronto sia la parte più pregnante del progetto, perché dà veramente la possibilità agli under 30 di avvicinarsi a un mondo che loro vorrebbero frequentare, che vorrebbero poi non solo frequentare, alcuni loro penso vorrebbero farne il loro mestiere. E quindi è un'opportunità importante. L'altra opportunità è quella di poter lavorare sulla città e fare anche un lavoro sociale, in qualche modo. Come diceva prima l'assessore, il progetto è stato pensato per far sì che il Torino Film Festival andasse nelle periferie, ma non con degli eventi spot che non possiamo certificarlo, però avrebbero avuto il rischio di scontentare magari il pubblico che è più abituato a girare nella cittadella del cinema, a dover andare a vedere qualcosa nelle periferie e allo stesso tempo difficilmente avrebbe probabilmente coinvolto la gente delle periferie se non quelli che già vengono al Torino Film Festival. Lavorando tutto l'anno invece a contatto con la cittadinanza, soprattutto dei luoghi periferici, poi in realtà lavoriamo anche sulla circoscrizione 1, si entra a far parte del progetto, si sente il progetto proprio, almeno questa è l'intenzione su cui noi vogliamo lavorare, e la città a questo punto diventa più coinvolta. Speriamo, tocchiamo ferro, però lo scorso anno un bel pezzo del quartiere Vallette di Barriere di Milano fu presente alla proiezione a Reposi, speriamo appunto che anche questa sera si ripeta con pezzi di cittadinanza che arrivano dentro il Torino Film Festival e invadono la sala. Grazie mille, Paolo Manera, Film Commission Torino Piemonte, come ha sposato questo progetto? Una ne pensa e cento ne fa la Film Commission Torino. Ma in questo caso il progetto è partito da Piemonte Movie, in sintonia con la città e in sintonia con Film Commission Torino Piemonte, che come sapete pervade la città e anche tutta la regione, pervade anche il festival, ci sono tanti film che abbiamo sostituito. Sì, sì, che ormai diciamo che la rete torinese funziona. Eh sì, e vabbè Torino è sempre stato un po' scuola e un po' officina, no? A volte anche con delle scuole che più si va nelle periferie, sembravano delle fabbriche, Fabrizio Di Vidi sa, questo è un private joke, lui può capire a cosa mi riferisco, ma anche Fabio Geda, che è stato nominato a un collegamento diretto con una di queste scuole, fabbriche, anche di creatività, di idee. Questo progetto Film Commission l'ha sposato ospitando nella propria officina di Via Cagliari parte degli incontri iniziali, parte delle attività di questo laboratorio per tutto un anno, altre sono state fatte appunto negli snodi dei diversi quartieri. Film Commission l'ha sostenuta anche in qualche modo perché sia il direttore artistico, Daniele Gaglianone, che i tutor sono in qualche modo collegati a una rete attraverso il fondo del documentario, il fondo del cortometraggio, che in questi anni ha continuato a far crescere una rete di progetti, ma altri ancora sono stati sostenuti non con i fondi, ma con la nostra collaborazione. La sala di Via Cagliari, come sapete, la sala cinema non è tanto un cinema, ma anche quello è un laboratorio in cui fare incontri, proiezioni tecniche, post-produzione audio. Per cui, insomma, Film Commission l'ha sposata facendo la Film Commission, che crediamo debba voler dire essere una struttura di ospitalità, di accoglienza, di comunicazione, di creare occasioni di incontro. E' stato nominato Torino Film Industry. Torino Film Industry già quest'anno ha ospitato una presentazione di Torino Factory. Per noi era importante però che Torino Factory fosse cortocircuitata con la Direzione Generale Cinema, MIBAC, con i progetti delle scuole, con un discorso che colleghi il territorio, la capitale nazionale, le altre capitali del cinema nel mondo, che poi sono tutte delle città, no? Sono capitali e funzionano per essere capitali del cinema nella misura in cui sono città, in cui c'è un rapporto in cui coinvolgono tutti. Il più bel commento, uno dei più bei commenti su Torino Factory è stato proprio questa cosa bella, questa invenzione di qualcosa che collega i talenti, i grandi player e il pubblico. Allora, il fatto di creare questo... c'era anche la responsabile di Ray Fiction che ha parlato, la responsabile di Ray Fiction è stata presente a parlare in un luogo di cinema, di serie di tv, usando, facendo riferimento alla sua linea, nessuno escluso. Contemporaneamente abbiamo un'altra fiction che è intitolata Giustizia per tutti, direi che in qualche modo tutto torna alla fine. Grazie a Francesca Leon che appunto ha visto anche in questi giorni chiudersi un percorso di un anno tremendo, per certi aspetti, perché quando sei famiglia, comunità, vivi tutto in modo intenso, e nello stesso tempo bello, pieno di gioia. Ecco, questo è un progetto interessante perché il cinema dovrebbe essere sempre sperimentale, dovrebbe essere sempre un esperimento, dovrebbe essere anche gioia e nuovi talenti. quindi credo che questo Torino e Torino Film Festival sia il posto giusto per fare partenza e ripartenza di questo progetto. Sì, poi tra l'altro per la soglia dei 30 anni è una soglia abbastanza bassa perché chi ha meno di 30 anni ha veramente spesso difficoltà ad accedere agli strumenti per poter fare professionalmente cose di questo genere. Ma via via abbasseremo anche la soglia, sapete il limbo, un ballo in cui bisogna... Eh no, sì, sì, è chiaro che non in tutti i paesi la soglia è così, però in Italia l'under 30 ha difficoltà molto spesso ad accedere a delle possibilità anche tecniche di questo genere. Ma noi stiamo parlando della seconda edizione di cui oggi vedremo i risultati, ma siamo già in corso abbondantemente con la terza. Alessandro ci vuoi raccontare come sta andando il lavoro sull'edizione che vedremo l'anno prossimo? Allora, sulla terza edizione sono un po' in imbarazzo a parlare e... Non volevo. No, vabbè, spero di non mettere in imbarazzo anche l'assessore Leon. Quest'anno non siamo riusciti a confrontarci moltissimo per i tanti impegni anche dell'assessore, anche in vista di Torino 2020, Città del Cinema. Sono in imbarazzo perché, come sempre, è un tema trito e ritrito, ma è un tema importante. Per fare tutto questo servono dei fondi, indubbiamente. Noi abbiamo preparato un progetto inizialmente che per essere perfetto, per funzionare bene, era un progetto, come l'assessore sa, intorno ai 100.000 euro. L'anno scorso, devo dire, il Comune ha profuso un grande impegno. Non avevamo chiesto soltanto un intervento economico del Comune, perché sappiamo benissimo come girano le questioni economiche in questo periodo. Avevamo chiesto l'autorevolezza del Comune per sostenere il progetto e farsi tramite con una serie di sponsor per poter sostenere anche privatamente il progetto. L'anno scorso questo lavoro è stato fatto. Si è riusciti a mettere insieme l'anno scorso circa 42.000 euro e diciamo che il nostro lavoro non è stato pagato tanto bene, ma siamo anche in associazione, lo mettiamo in conto, però quantomeno le spese sono state sostenute. Quest'anno il progetto seconda edizione, io adesso ho avuto le buone notizie, le rassicurazioni, che dovrebbero arrivare 20.000 euro dalla Fondazione Torino per la Cultura, ma mancano 22.000 euro all'appello. Non sto dicendo che sia colpa soltanto del Comune, credo che però manchi un lavoro di coordinamento che se vogliamo fare una terza edizione dobbiamo portare avanti con più forza, altrimenti rischiamo che questo diventi un fallimento. Come ho già avuto modo di dire, come tu sai Francesca dalle mail anche che ho scritto in più di un'occasione, dobbiamo decidere cosa vogliamo fare di questo progetto. Siamo ancora in corsa, fino a marzo abbiamo tempo per decidere cosa vogliamo fare di questo progetto, ma 20.000 euro per questa seconda edizione, che peraltro devono ancora arrivare, spero toccando ferro che tutto vada bene e che arrivino, mettono in grande crisi un progetto come questo, che è un progetto per il futuro e per il futuro dei giovani. Guardi, io ho fatto due conti proprio tirati giù alla buona a penna. Noi per ogni progetto, attualmente diciamo, con i 42.000 euro che eravamo riusciti a prendere, investiamo su ogni troop circa 2.400 euro di benefit concreti, tra quello che sono, diciamo, le spese a sostegno dei tutor, quello che è uno dei benefit, e vorremmo darne molto di più, che è la color correction, quello che è il noleggio di attrezzature. Più abbiamo circa altri 2.500 euro che è il lavoro dell'associazione Piemonte Movie, fatto da ufficio stampa, comunicazione, pubblicazioni, stampe e via di seguito. Quindi abbiamo più o meno 5.000 euro per ogni troop che vengono investiti. Dovrebbero essere di più, ma diciamo che la soglia minima dei 42.000 permetterebbe quantomeno di tenere in piedi il progetto. E quindi chiedo qui all'assessore, anche in vista di Torino, Città 2020, sappiamo che c'è una grande attesa su questo, se questo progetto, come tanti altri, in qualche modo potrebbero orientare, rientrare in un percorso anche economico di sostegno, perlomeno quest'anno, anche se secondo me su alcuni progetti bisogna avere una prospettiva di più lungo periodo, perché so che è difficile, il tema l'abbiamo affrontato più volte, sappiamo che è difficile trovare fondi e sostenere tutte le attività che l'amministrazione ha, però è un tema, so che per Torino 2020 si sta lavorando anche con il Ministero, qua allargo un po' il raggio, facendo parte anche del Comitato Emergenza Cultura, appunto ci siamo posti la domanda anche quali saranno anche le ricadute economiche sulle associazioni, in questo caso di cinema, ma non solo, perché lavorano in tanti, non solo il cinema, su questo progetto, quali saranno le ricadute economiche, al di là del coordinamento di comunicazione e immagine nel quale tutti siamo già stati coinvolti. Questa è la situazione, mi spiace chiudere un po' con questa nota, ma è una nota di sopravvivenza, perché è una nota di sopravvivenza non solo per il progetto, ma un debito per un'associazione come Piemonte Movie potrebbe voler dire anche la chiusura di un'associazione, o comunque è una messa in crisi molto forte. Assessore? Certo che rispondo. Allora, la città crede a questo progetto, infatti in chiusura, e te l'ho detto anche prima, stiamo cercando di integrarlo all'interno di Torino Film Industry, perché questo progetto, per poter proseguire, ha bisogno di gambe più forti. E' il motivo per cui vogliamo inserirlo all'interno della progettazione della Film Commission, in modo tale che si riesca a gestirlo, dandogli una prospettiva più solida, sostanzialmente. Dopodiché, sulle risorse, adesso andiamo a lavorare, sono risorse che non sono così ingenti rispetto al progetto generale di Torino Città del Cinema. Io mi sento di dire che questo progetto deve andare avanti. Troveremo le forme per poter andare avanti, insieme a Film Commission, in modo tale da dargli la continuità che merita. E' un progetto importante che è evidente da sola. Piemonte Movie non riesce a gestirlo nella continuità. Quando i progetti funzionano, bisogna anche dargli delle gambe, diciamo, un po' più solide, dei collegamenti più solidi con le istituzioni, in questo caso Film Commission, che si occupa di promuovere la produzione sul nostro territorio. Quindi questa è la linea di indirizzo che ci siamo dati, che peraltro su cui sai che stiamo lavorando in relazione alla nostra convenzione con Film Commission. Quindi io mi sento di dire che il progetto continuerà, avrà le sue gambe, quella più istituzionale e quella più proprio di gestione, del lavoro di tutor, di scelta, di selezione, di tutoring, da qui ai prossimi anni. Ma è necessario fare questo passaggio, su cui abbiamo lavorato intensamente in questi mesi, proprio per dare una prospettiva di sviluppo a questo progetto. Era corretto e deve essere sì collegato al Torino Film Festival, ma deve avere delle gambe nel settore, nell'istituzione che si occupa di produzione sul nostro territorio. Allora io ringrazio moltissimo l'assessore Francesca Leone, ringrazio Alessandro Gaido, ringrazio Paolo Manera, vi ricordo ancora una volta che oggi... Ho capito che film era, quando ho visto tutti gli attori, i player in caso. Vi ricordo oggi pomeriggio alle 14.30 a Reposi la proiezione degli otto finalisti, la proiezione sarà replicata poi lunedì 9 dicembre al massimo alle 20.30, mi auguro che veniate tutti numerosi, grazie di nuovo a tutti e buona giornata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.